Qui prima nell'attuale rotazione... ...della società autostrade. Tutta l'iter sulle opere compensative si era conclusa per quello che riguarda il progetto. Abbiamo già portato in giunta le modifiche parziali al tracciato che tengono conto di tutte le esigenze che sono state manifestate. Io ripeto, giuste. Però ci tengo a sottolineare che questo è grazie al lavoro che il sindaco, l'assessore e il dirigente hanno fatto con tutti gli enti. I nostri viaggi a Roma hanno portato a questo risultato che è in etinere, allungherà leggermente i tempi, però il risultato sarà importante e soprattutto non andrà a ledere le persone, non andrà a ledere anche tutta una serie di spazi e comprese anche quelli pubblici. Queste variazioni che hanno già ricevuto il benestare di società autostrade, provincia e regione verranno entro la prossima settimana sottoposte ai diretti interessati che dovranno, condizio sine qua non, impegnarsi a non opporsi all'iter procedurale sugli espropri. La prima cosa che bisogna dire è che se non c'è il consenso delle persone che saranno espropriate in più o in meno, in pochissimi casi, però comunque se non c'è il consenso delle persone, noi non possiamo procedere a fare queste modifiche. Perché l'opera è già stata autorizzata in tutto e per tutto e l'occupazione è già stata fatta. Quindi ovviamente se non c'è il consenso della gente noi non possiamo andare avanti, perché i tempi diventerebbero talmente lunghi che creeremmo un danno sull'autostrade, la quale si riserverebbe poi di chiederci indietro dei soldi.